Tommaso Gerald Pippanzi in arte Baldanzi 15 milioni dall'Empori e vanno i nostri cuginetti 15 milioni poi danno presi, non lo so, danno rimediati quindi debuffi fino al collo e hanno preso Baldanzi Baldanzi Angelino Alfano, politico e Pippanzi 15 milioni dal cielo ma che pensate da recuperare per caso Milan, Inter, Euro e da vincere lo scudetto? si, ne vincene 8 dei scudetti 28 voi state fuori voi state fuori e io godo e io godo che godoni e poi Gallo Belotti il vostro Gallo Belotti voglio dire addio 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 non è mai più va là fa 20 gol fa 20 gol a Firenze 20 gol e io mi godo Valeri mi godo Valeri il nuovo Roberto Carlos e sarete a vedere a giugno che ve combina Valeri quello è veramente è un grandissimo talento uno dei più forti in circolazione e ve lo dimostrerà già col Fosinone già col Fosinone Tommaso Gerard Pippanzi il bidone dei bidoni 15 bruscolotti buttati al cesso grazie a tutti